Torna a Pineto per l'undicesima edizione il trofeo di nuoto città di Pineto con l'associazione Spatangus. Quali sono le novità di questa edizione che si terrà sabato prossimo 30 giugno? Le novità sono intanto il numero di atleti, 116 atleti per la prima volta, divisi nelle tre distanze, la mezza, la classica e la doppia, quindi a colpi di bracciate andremo ad aiutare Acar. Assicurerete sempre un certo standard di sicurezza? Ovviamente questo resta il nostro primo obiettivo, non è l'unico ma sicuramente tra i più importanti perché dobbiamo garantire a tutti che vogliono sfidare il mare o sfidare se stessi, mettersi nelle condizioni di essere tranquilli e sicuri nel caso del bisogno. E noi dobbiamo essere lì a fianco a ogni nuotatore che ha voglia, cercare di successo per se stesso e voglia di sfidarsi. Anche quest'anno avremo un testimonial d'eccezione, un ultra biker che si presta per appunto dare il senso della determinazione e della voglia di gare di endurance cosiddette, quindi di lungo sforzo. E poi avremo la presenza di tre atleti che gareggeranno su tre percorrenze diverse, avremo Sabrina Peron che è la prima donna italiana che girerà intorno all'isola di Manhattan a nuoto e lo farà in settembre del 2018, poi avremo Thomas Cogliati che farà il giro dell'isola del Giglio per combattere la leucimia infantile e ultima ma non ultima Sara Menardo che è atleta Special Olympics che l'anno prossimo nel 2019 parteciperà ai giochi mondiali estivi. Appuntamento alle ore? Alle ore del sabato mattina, alle ore 6 per tutti e alle 7 ci sarà la partenza.